Matteo, abbiamo detto che il trattore nasce connesso, immagino abbia già tutto l'ardo necessario, giusto? Esattamente Vanni, l'8280 TTV nasce come l'Always on Tractor, il trattore sempre connesso, dotato in base di modulo CTM che consente il trasferimento di dati in real time e anche dopo la lavorazione. Per i clienti che necessitano di guida satellitare, Doixfar offre la possibilità di montare il nuovo ricevitore SR20 che in combinazione con l'iMonitor da 8 o 12 pollici garantisce una guida satellitare a diversi gradi di precisione, submetrica, centimetrica o decimetrica.